Lucrezia a fine puntata prende la sua borsetta e si avvia da Manuel. Ho bisogno della tua comprensione, posso parlarti. Manuel intuisce che Lucrezia vuole parlare della sua figuraccia che ha fatto in diretta e quindi le dice subito. Io mi dissocio da te, basta. Non parlare più con me di questa situazione, non abbiamo nulla da dirci. Sei lontana dai miei modi di comportarmi. Lulu insiste. Manuel replica. Basta Lulu non farmi essere scortese. Abbiamo chiuso. Tu fai il tuo percorso e io mi faccio il mio. Lucrezia inizia di nuovo dicendo ti prego usciamo fuori da soli e parliamo un attimo. Manuel a questo punto sbotta dicendo ma vai a quel paese basta e va a brindare con tutti i ragazzi nella camera da pranzo. Lucrezia riprende la sua borsetta e va in giardino a piangere da sola. Manuel ha chiuso definitivamente con Lucrezia. Infatti la stessa si è dimostrata con il tempo molto maleducata e infantile. Sicuramente non è la persona che potrebbe affiancare Manuel né come fidanzata e neanche come amica. Sono due mondi differenti. Lucrezia però non molla e infatti in giardino dice non è giusto chiudere così non me lo merito. Segno che ci riprova ancora. Manuel questa volta ha sbottato dicendo vai a quel paese. E per far perdere la pazienza a Manuel ce n'è voluto di tempo. Ma a questo punto Lucrezia è al limite della persecuzione e dovrebbe lasciar stare Manuel che le ha detto più volte. Basta. Canale YouTube Fabio Pecce.